Che poi non ho mai capito perché deve vedere kebab lui Cioè, non... Madonna, ma chi cazzo sono? Ma chi cazzo sono? Ma l'hai visto? Ma che cazzo le vedi ste cose? Non le vedi, eh? Non le vedi? Cristo! Chissà da quanto, allora? Ma adesso mi sono mutato? Ah, da poco, ok. Andata, eh? No, andi qua Tacci mia! Eccola là Madonna! Che maestro, che maestro! Bollini se ti prendo! Belino Che cazzo avresti da sta troia? Madonna! Dove cazzo? Dove vai? Ah, da schifano! Buuuu! Mamma mia! Che maestro! Signori, la devo segreto di Lubansky qua Sto facendo un coso su... Porco zio! Teniamo indietro? La direi! Sta... Cosa fa? Ma guardala! Madonna! Madonna se godo! Vai! Acquittato! Eh vai! Acquittato! Acquittato! Se ti devi dal cazzo, Jill però... Bravo! Fai la riverenza, fai la penitenza, guarda in su, guarda in giù! Fai un salto, fanne un altro! Porco! Porco zio sta Jill! The Dard! Dei miei coglioni! Porco zio! Certo! Bolino! Ma hai visto coso? Crysness che non... Ha detto basta! Che è il bot quello? Certo che è il bot! Porco zio! Bolino! Sì, sì! Ha detto basta! Ci sono rimasto un po'... Micchia ci conoscevano da... Sei anni? Sì, ti begga! Che cazzo fai? Chi è tornato a te? Vabbè, lasciamola perdere il bot perché veramente... Ma qua li è ancora... Accusato? No, vorrei capire, eh! Madonna! Eh sì, eh! C'è l'aggiornamento di Alan Wake! È arrivata! Ma genio a pedali! Il genio a pedali, signori! È arrivato il genio a pedali! Il genio a pedali! Vai! Dov'è che ti metta? Aspettiamo un po'? C'hai voglia? Aspettiamo! Facciamo la signorata e ti porta laggiù! Vai! Ah, è che ci arrivo! Madonna! No, vabbè, ti dicevo! Vabbè, sta questa levata dai coglioni! Molto bene! Cioè, ci sono rimasto perché... Cioè, buh! Ah, mi sposto su kick! Vado di là, vado di su, vado di giù! D'altro abbiamo scritto su Telegram! Un po' di tempo fa, ma neanche cagato! Vabbè! Pazienza! Pace! Che ti dico... Ciao, Riccardo! E quindi non... Poi la buona d'età anche a Jimmy se l'ha sentito... Eh, sì, sì, ma non ha risposto neanche a me! Ma, ai tempi! Cioè, un po' di mesi, sei mesi fa, non mi ricordo, qualcosa del genere! Ma, no, che ha smesso! Ha chiuso! No, che aveva ripartito a fargli short, video editing, cosi... Eh? Fatto due o tre video... Eh, sì, sì! Ah, diceva, eh, andavo in live, non c'avevo il contattore degli spettatori... Attivo perché... Tue volte ero in ansia, era qui, era là... Eh... Un po' lo capisco, eh! Sai, lui voleva fare variety, ma... M***a, la gente lo guardava... Non dico solo per dbt, ma... Cioè, uno dei pochi in Italia aveva la maniera di Twitch di dbt... Cioè, per dire... Cioè, lui vuole scendere qualcun altro in Italia, eh! Secondo tre... Sì, sì, sì! Assolutamente! Purtroppo è così! Porca puttana come l'ho preso, sto figlio di... Madonna! Ma come l'ho preso? Cosa fai? Sì, 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 sì! Il Prime, sì, sì! Cambiando un po' di cose... Barbecue... Eh, niente... Non ha... Sessanta... Sì, poi però va una... Il Prime, voglio un po' di pagarla ancora meno... Perché Twitch... Cioè, Amazon... Non ci sta dietro... In effetti... Una culona? Eh, niente... Niente culona... Ma secondo me certe... Certe sub dovevano le fare... Il ritorno del... Eh... Eh, lo so... Purtroppo... Ma io... Cioè, io lo rispetto lui... Cioè... Non... Porco il tuo... Sta culona di merda... In senso ludico, ovviamente... Nel gioco, non nella vita reale, eh... Non è che faccio body shaming... In atto ludico, ovviamente... Poi dice qualcuno... Eh... 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 A volte anche di più... Buongiorno, Teccone! Buongiorno! Ah... Stanno facendo... Un culo... Sti qua... Ecco qui, Jen... Ah, bene! Dio è andata? È andata di qua? È andata di qua? Ah... Madonna, sta culona... Porco zio... Cioè... Minchia, ma mi vuoi proprio male, Teah, eh... Porca puttana... Mi vuoi proprio... Ma quell'ha ancora ferito... Porco il tuo... Quanto la odio la Shack, ragazzi... Quanto la odio... Eh, va... T'è scaduto... Vergine di legno... T'è scaduto... Eh, insomma... Sono un po' arruginito, eh... Dai, con questa partita magari potrebbe uscirci un bel videino, eh... Andiamo su? Andiamo a tirargli giù, Jen... Tanatofobia... Cioè, c'è, tanatofobia attivo, quello lì ancora... Venire a curarsi... Porca troia... Eh, no, 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 no... Oh, cioè... O sei Mike Shosha, o sei... Ciccio Gamer... Minchia, hai visto i panini di Ciccio Gamer... Cioè, ma... Ma quando è che viene a Genova che... Gli faccio un po'... Un po'... Un po'... Un po' Giccio Gamer... Anche l'atto ludico, eh... Purtroppo il Varyity... Secondo... L'unico... L'unico canale... In Italia... Che mantiene... Gli stessi standard... Ego Easy Twitch... L'unico... Trova meno un altro... Che fa gli stessi numeri suoi... Con qualsiasi gioco... Qualsiasi... L'unico... Porco il tuo... Per cazzo sei? Maledetto figlio di... E vabbè, Blur... Vabbè... Blur può scorreggiare anche perché... Blur... Ragazzi, che solo gli vuoi dire? Blur... 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 Michael Marza... Marza fa morire... Marza... Beniamo... Ora... Cioè... Dove cazzo... Dove cazzo vado? Eh... 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 Sì... Sì... Dimmi... Me la drogo... Ma no... Me la godo... Sì... 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 Ce la posso fare... Brave... Molino se ti... Ti... Ti asporto una chiappa... Io voglio lei, ragazzi... Eh... Voglio lei... Eh... Ragazzi... Cioè... Beniss... Teste don... Qua... Cioè... Porco il tuo... Ti svito il cranio... Ti cago in gola, eh... Sai? Dai dai che ci facciamo... Un bel gireto qua... Vai... Vai... E lo c'è silenzioso... Eia... Ma... Porco il tuo... Brava... 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 Max... Ma perché... Banca, no? Perché non mi interessa... Non... Non... Non ho provato all'inizio... Ti dico... All'inizio... All'inizio... Sei anni fa... Facevo il pomeriggio... Live in inglese... E la sera... In italiano... Ma portavo altri giochi, eh... Trovo retro gaming... Roba così... Ma... Per il tuo... Che cazzo me lo fa fare... Voglio poter... Esprimermi a meglio... In italiano... Esprimermi a meglio... Non fissi... Blandi... Blandi... Tanto t'ho preso, eh... Che babbaro di merda... Che poi non ho mai capito... Perché deve vedere che bab lui... Cioè non... Madonna... Ma chi cazzo sono? Ma chi cazzo sono? Ma l'hai visto? Ma le cazzo le vedi ste cose? Non le vedi, eh? Non le vedi? Cristo... Dove cazzo le vedi, sino? Dove... Do... Dove? Do... No, tu dimmi... Spulcia... Twitch... YouTube... Cazzo voi... Dove le vedi? Non le vedi? Punto... Non le vedi? Non le vedi? Ragazzi, io sono l'allievo segreto di Lubansky... Lui neanche lo sa... Io sono suo allievo... Lei lo sono ugualmente... Eeeh... Tataratataratataratataratara Ecco qua Una e due Potrebbe farcela, eh? Se è già l'altra uscita... Vabbè, sono abbastanza vicine comunque, eh? Quindi... Porco ziggio, aperto un culo... Ha cappello di prete, beh, lì C'è presente il cappello... Anzi, un po' cardinale, no? Cioè, si dice il cappello di prete... Ma in realtà... Eccola là! Guarda, guarda, guarda! Hai vista, no? L'ombra... Eccola! Vai! Sulla chiappa! Gli ho asportato la chiappa, signori! Gli ho asportato la chiappa! Mamma mia! Quella l'ha quitta! Quella sta qui... Si fa asportare le chiappe? Ma io non lo so... La culona...